La mostra di Manuel Saiz E' stato otto mesi a Roma per non vedere il Colosseo. Cosa c'è dietro questa sua scelta? Indolenza, rabbia, disgusto verso l'orrore dell'arena dell'epoca, stravaganza artistica, ignoranza, motivi di fede religiosa. Cosa significa per Manuel Saiz il monumento storico più fotografato del mondo, simbolo turistico di Roma? Abbiamo provato a chiederglielo, ma le risposte sono state evasive. Tutti i film, letto, tutti i libri, ma io non sono veduto il Colosseo. Capisci questo? Tu capisci questo? Non la pizza? Le più importanti del progetto. Questa mostra, organizzata dalla Fondazione Musica per Roma, stuzzica allora la curiosità, la voglia di scoprire, le motivazioni di Saiz attraverso il materiale che ha raccolto durante la permanenza nella nostra città e vivendo nella capitale senza mai incrociare fisicamente il monumento d'eccellenza di Roma. Fotografie, cartoline, oggetti svariati, memorabili e sorprendenti, una proiezione video e un blog in auditorium arte faranno riflettere sul ruolo del monumento, sul turismo contemporaneo e sulla vita quotidiana di una città come Roma. Manuel Saiz, le sue origini dell'Espagna, delle Norte dell'Espagna, la Rioja, l'ha colpito moltissimo il Colosseo. Mi ha pensato molto il Colosseo, molto, mi piace molto il Colosseo.